la discesa sovra mentale e bruscamente quell'inizio universale si è concretato. Era il 29 febbraio del 1956, anno bisestile. Se in realtà tutto dipendesse dalla buona o dalla cattiva volontà degli uomini oppure dal loro pensiero ci sarebbe ben poca speranza per la terra. Abbiamo a volte l'impressione che tutta la storia della terra venga mal letta, che sia una storia vera con gli stessi fenomeni che tutti noi conosciamo, letta però in un suo solo strato, attraverso un certo paio d'occhiali e che le cose abbiano tutt'altro senso. I geologi e i paleontologi sono forse più vicini al movimento vero della terra, perché la loro visione è meno artefatta, più aderente ai fatti direttamente materiali. In fondo essi guardano la terra senza ricorrere alla mente. Noi ci vediamo rinascimenti, invasioni mongole, teorie politiche e sfere di influenza, ma non vediamo niente del movimento della materia, dell'esperienza terrestre in quanto cammino di una specie. Tutti i cui strumenti, discorsi e storie possono ridursi in polvere e scomparire per sempre, senza che ciò muti minimamente il progresso di quel qualcosa che è la fisiologia umana, terrestre. Quello che noi ne pensiamo avrebbe potuto benissimo non essere mai esistito, oppure potrebbe venire letto in modo completamente diverso, con parole completamente diverse e con principi completamente diversi, e il fatto resterebbe sempre lo stesso. Noi siamo gli attori di un dramma che non conosciamo, o di cui in ogni caso non conosciamo che uno strato, come dei geologi della superficie. Che senso davano a se stesse le prime tribù a che è? Di certo non il medesimo che noi diamo a noi stessi, e il nostro senso è probabilmente altrettanto limitato e aberrante dell'oro. C'è uno strato che noi non conosciamo, e in fondo, finché non avremmo toccato la roccia fondamentale dell'uomo, il proposito vero, racchiuso in una piccolissima cellula, tutte le nostre storie resteranno sempre mascherate infantili e sciarade di un tutt'altro racconto. Bisogna lasciar cadere gli occhiali mentali per poter capire davvero il movimento del mondo. Bisogna uscire dalla traduzione mentale. Noi non viviamo nulla del mondo qual è. Viviamo una traduzione del mondo. Ma forse anche gli occhiali fanno parte del piano evolutivo. Perché era forse necessario vedere per qualche tempo il mondo in un certo modo per poter commettere tutti gli sbagli che ci volevano. Non ci renderemo mai conto abbastanza dell'immensa saggezza delle cose e di come i nostri errori abbiano tutt'altro senso. L'evoluzione non commette errori, ma avanza passo passo con tutti i mezzi, con le buone e con le cattive volontà o senza nessuna volontà, verso un fine imprescrittibile. Qualunque sia la lingua con cui noi lo si voglia chiamare. Perché l'evoluzione non è un'evoluzione della mente, è un'evoluzione della materia e tutto procede di pari passo in linguaggio marxista o di piccoli cristiani. Il cambiamento di storia. Ma c'è un momento in cui gli occhiali possono cadere, cadere collettivamente, terrestrialmente. Un attimo di cambiamento di occhiali. E il fine dell'evoluzione è forse lo sguardo puro, libero da qualsiasi strumento, come se fosse necessario che un certo numero di filtri ci veli una realtà troppo forte per noi. Il sovramentale è lo sguardo diretto della materia. È la materia stessa che vede, che fa, che agisce, che conosce senza l'intermediario della mente. È la coscienza della materia, nella materia, che plasma il proprio mondo direttamente e infallibilmente. Non possiamo capire niente sul serio di questo sovramentale, proprio perché ci mettiamo sempre la mente sopra. Ma se potessimo presentire quella coscienza nascosta nella materia, nell'atomo, nelle cellule, che regola infallibilmente tutti i movimenti della natura, come il tragitto degli uccelli, e per la quale niente è separato, niente è altro, né lontano, né ieri, ma in un'unica pulsazione totale, in un solo spazio continuo, in un solo movimento unico terrestre, che conosce ad ogni istante se stesso dovunque e sa perciò ad ogni istante l'atto giusto, la direzione giusta, la coordinazione esatta di tutto. E senza pensarci, perché tutto semplicemente è, ed è così, allora cominceremo forse a vederci cadere di dosso un'enorme quantità di scaglie, e il mondo sarebbe completamente diverso, sbalorditivamente diverso. Tutte le nostre storie finirebbero allora in un formidabile non senso. Sarebbe un altro modo di essere. E il corpo è il ponte, poiché quella coscienza ha sede nel corpo e non nella mente. Non si tratta di una mente migliorata, ma di una materia resa finalmente chiara, che vede e che fa ciò che vede. Una fantastica semplificazione di tutto. È la grande esattezza, un'altra vita, davvero, forse, la vita. Insomma, una mutazione della coscienza del corpo e nella coscienza del corpo. Ma la parola mutazione è ancora un adattamento mentale di un fenomeno che non spieghiamo affatto. È l'etichetta pseudoscientifica per esorcizzare un qualcosa che ci sfugge. Ma quel qualcosa è tutto. Non facciamo che tradurre fisiologicamente e materialmente, nell'ambito della nostra percezione materiale, umana, attuale, ciò che appartiene a un altro ordine o a un altro strato di tempo e di realtà. Così, dicendo mutazione, ci aspettiamo magari di veder spuntare a destra e a sinistra delle stranezze fisiologiche, come si trattasse della mutazione di un bruco. In effetti ci saranno forse anche fenomeni di questo genere, ma non come li intendiamo noi. Ci aspettiamo di trovarci improvvisamente di fronte a strane variazioni, a megalocefali ben pasciuti, magari ad uomini a cui spunti un terzo occhio o degli organi telepatici, oppure che si mettano a cambiare colore. Non facciamo che trasporre il presente da quei ragazzini che irrimediabilmente siamo. Invece ciò che muterà per prima sarà la coscienza, sarà la percezione del mondo, la percezione della materia, o piuttosto la nostra falsa percezione di qualcosa che è una falsa materia proprio perché viene vista falsamente. Invece di vedere attraverso un'immersione nella melma mentale, il corpo si metterà a vedere direttamente nel proprio ambiente. Ed è una cosa che cambia tutto. È come la nascita di un'altra realtà, di un altro mondo, che tuttavia resta sempre lo stesso. E se il corpo vede altrimenti, percepisce altrimenti la materia, naturalmente la maneggerà altrimenti con mezzi che noi non possiamo neanche concepire, proprio perché possiamo concepire solo quei mezzi che passano attraverso. Bisturi, gru, telescopi, frantui. Non capiamo assolutamente cosa possa significare. Maneggiare la vera materia, proprio perché non sappiamo cosa sia questa vera materia. E, naturalmente, percependo se stesso altrimenti, il corpo vivrà se stesso altrimenti. Magari si rimodellerà altrimenti, ma in quanto avrà visto se stesso altrimenti. Il corpo può diventare solo ciò che vede possibile per sé. Per il momento, la sua unica possibilità è quella di invecchiare, di sclerotizzarsi, di disgregarsi, di morire, perché è rinchiuso in un sistema, in un'aria che non sono i suoi. Ma come sono avvenute le altre transizioni evolutive o mutazioni? Non ne sappiamo nulla. Ci mettiamo sopra delle etichette e basta. Ma è altamente improbabile che, per un'aberrazione analoga alle nostre aberrazioni pseudoscientifiche, il gambero si sia messo un bel momento a farsi spuntare un altro tipo di zampe, benché anche questo sia possibile, tutto essendo possibile. È invece più probabile a tutti gli stadi, a qualsiasi stadio, che avvenga innanzitutto un cambiamento di percezione, un altro modo di sentire l'ambiente, probabilmente per una costrizione delle circostanze esterne, climatiche o altro, che innesti automaticamente un altro modo di foggiarsi dell'essere, più adatte. È sempre la coscienza ad entrare per prima in funzione. È la percezione a mettersi per prima in contatto altrimenti con la materia e perciò a maneggiarla altrimenti. Non sappiamo niente dei miracoli di adattabilità della materia proprio perché la vediamo fossilizzata quanto la nostra percezione. Si vive, si muore, si rivive e si rimuore, ci si ammala e si guarisce e si ricade ammalati e si muore ancora. È la legge. Ma è la legge della nostra percezione mentale. La mutazione è una mutazione di coscienza. È un altro ordine della stessa realtà, diciamo una realtà più schiarita a svelarsi. Il sovra mentale è forse un nuovo svelamento o una nuova chiarificazione nella storia della materia. E naturalmente questa nuova chiarificazione deve creare i propri mezzi e i propri strumenti, il suo modo particolare di essere con quell'altra materia. Allora tutta la nostra grande storia ci apparirà sotto tutt'altra luce, poiché non potevamo vederla altro che alla luce della nostra percezione mentale è nel senso unico della mente. È davvero quella che si può chiamare un'altra era. Un'era altrettanto radicalmente diversa di quella che si è potuta aprire allorché la vita ha preso ad esplodere in mezzo ai sassi del mondo. Un cambiamento di storia. Il bisogno incorreggibile. «Quand'è che succederà?» chiedevano i bambini riprendendo il ritornello dei discepoli di Sri Aurobindo. Il sovra mentale per «Quand'è?» «Quand'è che scenderà?» Perché naturalmente per loro si trattava di qualcosa che sarebbe come cascato dal cielo. Quello che non capivano era che si trattava di rischiarare tutto un tragitto in quel cielo e questa materia impantanata in millenni di abitudini mentali. La materia è completamente invischiata e ingabbiata in una trama mentale. Il cielo splende lassù per gli asceti della coscienza cosmica, i quali ci si addormentano compuntamente e con tanta religiosità. Ma tra quella su e questo qua giù c'è tutto un pantano da ripulire, tutto un passaggio da compiere. Eravamo davvero troppo occupati a gingillarci col nostro nuovo strumento mentale. Era talmente interessante aver trovato un nuovo giocattolo, diceva la madre ai bambini. Con la mente ci si giocava, si cercava di servirsene con tutti i mezzi. Come bambini durante la ricreazione, inventare, cercare, giocare, trovare, prendersi a spintoni, venire alle mani, mettersi d'accordo, litigare, scoprire, distruggere, costruire. Ma c'è un disegno dietro. C'è sempre di più un disegno. E forse quanto si agita in superficie conduce, nonostante tutto, verso qualcosa che un giorno si realizzerà. quando e come sarà? Lei rispondeva pazientemente lì in quel playground. Dipende da voi. non capivano che la madre stava tirandogliela fuori la risposta a loro stessi, attraverso i loro piccoli gesti un po' più chiari, attraverso il loro corpo un po' meno sudicio. Diceva, se si può diventare davvero coscienti di tutte queste infermità e stupidità della coscienza esteriore, di tutte queste menzogne della cosiddetta conoscenza materiale e delle cosiddette leggi fisiche delle cosiddette necessità del corpo e della realtà dei suoi bisogni, se si comincia a vedere fino a che punto tutto ciò sia falso, stupido, illusorio, oscuro, imbecille, allora la soluzione è davvero molto vicina. La madre cercava di far loro vedere come sia la mente a regolare e a tiranneggiare il corpo con le sue leggi, coi suoi si può e non si può, si deve e non si deve, ma com'è difficile. Ognuno comincia col dire ma alla fine ci vuol pure la data vitamina, ma alla fine ho pur bisogno di pane, ma alla fine ci vogliono pure otto ore di sonno, ma alla fine la lista è interminabile, microscopica, subdola ad ogni passo, ma la nuova specie comincia semplicemente proprio con lo sbarazzarsi di una delle tante nostre piccole necessità. Bisogna cominciare a far pulizia da qualche parte. Quando è che succederà? chiedevano. E lei diceva, per la mente o l'intelletto superiore, concepire cose nuove è più facile di quanto non sia, ad esempio per l'essere vitale, sentire le cose in modo nuovo. Ed è ancora più difficile che il corpo abbia la percezione puramente materiale di quello che sarà un mondo nuovo. Pertanto questa percezione deve precedere la trasformazione materiale. Bisogna innanzitutto sentire in maniera assolutamente concreta l'estraneità delle vecchie cose, la loro mancanza d'attualità, se così si può dire. Bisogna avere l'impressione, persino materiale, che sono cose superate, appartenenti a un passato che non ha più ragione di essere. Bisogna che il corpo cominci a percepire quello che potrebbe essere un modo nuovo. E perché ciò accada, bisogna evidentemente che il vecchio modo gli appaia sorpassato. È sempre la stessa cosa. La cosa necessaria non è tanto educare il corpo, quanto deseducarlo, far cadere i paraocchi della mente. È necessario aver bisogno di un'altra cosa, perché la chiave di tutti i passaggi evolutivi è appunto il bisogno. Il bisogno, sì. Quella memoria, la terra, là in fondo, che si ricorda del grande possibile di prima dell'era mentale. È lui a crescere dentro. Questa memoria della terra, forse della vera terra che si ricorda. Il passaggio mentale è un'oscura della transizione evolutiva, di cui afferiremo compiutamente il senso solo quando saremo giunti al di là della mente, nella vera materia. E allora diremo, ah, è questo, era questo. Ma il fatto sta che ci sarà qualcuno a dire, ah, è questo. Mentre prima della mente non ci sarebbe potuto essere nessuno a dirlo e a sentirlo e a goderne, ci sarebbe stata soltanto una vasta zuppa cosmica che si inzuppava in se stessa con indifferenza o magari con diletto. Non lo sappiamo proprio. Ma occorre che la terra, tutta la terra, senta il bisogno. Non bastano alcuni esseri più o meno recalcitranti in un playground. Diceva, ogni uomo che abbia superato lo stadio dell'animale uomo e che divenga uomo uomo ha davvero un bisogno che potrei definire incorreggibile di essere un'altra cosa di quel semi animale davvero insoddisfacente. È quel bisogno incorreggibile che deve diventare sul serio incorreggibile tra gli esseri umani. Occorre che non ne possano davvero più di starsene dentro la loro pelle asfissiante. Forse la natura sta dando una stretta di vite per rendere la sfissia più certa oppure più evidente il bisogno. Diceva, penso che ciò avverrà quando un numero sufficiente di coscienze sentiranno in maniera assoluta che non potrà essere altrimenti. Occorre che tutto quanto è esistito e che adesso esiste ancora appaia un'assurdità che non può più continuare. Solo a quel momento la cosa potrà avvenire, non prima. E la vita gira. Si era già nel 1955. Diceva, è assolutamente evidente, che ora attraverso tutti i sommovimenti e tutte le stupidità c'è un bisogno che si sveglia. Quasi una specie di sensazione di quanto potrebbe e dovrebbe esistere e dovrebbe essere. Il che vorrebbe dire che il momento è vicino. Per lungo tempo si è continuato a dire sarà, sarà e si sono fatte delle promesse. Già migliaia e migliaia di anni fa si era cominciato a promettere che sarebbe venuta una coscienza nuova, un mondo nuovo, che qualcosa di divino si sarebbe manifestato sulla terra. Ma si diceva sarà, sarà. E così si è parlato di ere, di milioni e di miliardi di anni. Non si aveva la sensazione che sia adesso, che la cosa debba venire, che sia vicinissima. Nonostante tutto verrà il momento in cui la cosa accadrà, verrà il momento in cui il movimento si ribalterà in una realtà nuova. Era questa sete del momento che la madre riversava giorno per giorno nelle loro coscienze. Si sarebbe detto che trascinasse la terra intera. Attraverso quel piccolo campionario di umanità faceva lievitare tutta una massa asfissiante e la tirava come una pasta. Si poteva quasi sentire tutta la terra là, in quell'angolo del playground. E quant'era vasta questa madre. E come tirava, tirava quella pasta oscura. C'è stato un momento in cui sulla terra ha potuto manifestarsi l'essere mentale. Il punto di partenza poteva essere molto misero, molto incompleto, molto parziale. Ma comunque c'è stato un punto di partenza. Perché non dovrebbe accadere adesso? Ci sarà un momento in cui una coscienza sovra mentale possa entrare in questa coscienza umana e manifestarsi. Non è qualcosa da potersi allungare come un elastico. No, davvero. C'è un momento in cui la cosa avviene e può avvenire in un attimo.